In queste ultime settimane non si parla d'altro. Michel Unziker è continuamente al centro dell'attenzione dei gossip. Nelle scorse ore è accaduto l'impensabile tra i due uomini della sua vita. Scopriamo cosa è successo. Michel Unziker, Tommaso Trussardi ed Eros Ramazzotti rappresentano i due uomini più importanti della sua vita. Ormai fanno parte del passato, anche se la rottura con l'imprenditore bergamasco è ancora molto fresca e il bacio con il cantante pure. Nelle scorse ore tra i due è accaduto l'impensabile. Scopriamo cosa è successo. Nella prima puntata di Mission Impossible non è passato inosservato il bacio tra Michel Unziker e il suo ex marito, Eros Ramazzotti. I due rappresentano una delle coppie più amate e chiacchierate di sempre. Nelle scorse è arrivata la risposta inaspettata di Eros Ramazzotti sui social e le sue parole hanno attirato l'attenzione di alcuni utenti del web. Secondo alcuni utenti si tratterebbe di un'altra frecciatina velata nei confronti di Tommaso Trussardi. Basta con le guerre. Una frase che lascerebbe intendere l'intenzione del cantante di mettere. Un punto a tutte le polemiche e i battibecchi che ci sono stati in queste ultime settimane. A causa del bacio che è scattato tra lui e la conduttrice. Ovviamente non sappiamo con certezza se Eros si riferisse all'attacco velato dell'imprenditore dei giorni scorsi, ma in tanti credono che sia proprio questo il motivo della pubblicazione e questa immagine.